Ohhhhhhhh noh, ma stanno a bastara noh, ma stanno a bastare noh, Matti no, ma stanno a chi ormai che ti pare che scopi Sto ve li doi, mi sto ve li doi, è un video suol di rinforo stiamo avendo stai zingare, voleci mettete, mettete, vece suolvi Grazie a tutti. Grazie a tutti.